Nel mondo del turismo sono tre le condizioni necessarie, promozione, informazione e accoglienza. Una località turistica come Urbino, patrimonio dell'umanità, deve avere entrambe le opzioni. Noi già come Confcommercio, con il Comune, stiamo lavorando per una intensa attività di promozione. Siamo stati ieri a Milano dove abbiamo presentato l'edizione nuova dell'Itinerario della Bellezza. La settimana scorsa eravamo a Montreal dove abbiamo presentato gli eventi di Raffaello 2020. E prossima settimana, nel weekend, saremo a Verona dove faremo sempre qui la presentazione dell'Itinerario della Bellezza. Abbiamo un programma intenso di attività di promozione ma l'accoglienza è importantissima. Il turista che arriva nella città di Urbino deve essere accolto, deve essere supportato e non sopportato. Per questo è necessario migliorare la qualità dell'accoglienza. Questo è lo scopo della serie di incontri formativi che Confcommercio con il Comune di Urbino ha deciso di realizzare. Il rinascimento è qua, se uno vuol vedere il rinascimento nel suo splendore, nella sua crescita, nello sviluppo, si innamora facilmente di Urbino. Poi ha un vantaggio, che alcuni potrebbero considerare uno svantaggio, per me è un enorme vantaggio, di essere rimasta sana, cioè nel senso che integra una città dove in qualsiasi angolo respiri larghi appunto dal rinascimento. Quindi è accogliente di giorno e di notte, ha una dimensione dove è fondamentale camminare a piedi e per me è molto importante, cioè poter vedere le cose e entrare un po' anche nel move del rinascimento. Quindi adoro Urbino e sono molto contenta di partecipare. Dunque, diciamo che l'utilità per gli operatori sta proprio nel titolo che ha dato il dottor Varotti, che è quello di accoglienza diffusa, cioè nel senso che l'accoglienza deve sempre più diventare un modello, uno stimolo locale, cioè non deve essere appannaggio di poche persone o di pochi enti o di pochi ristoranti, ma deve diffondersi all'interno del territorio e quindi deve essere omogenea, deve trovare una formula che appunto nel mio caso riguarda l'eccellenza nella comunicazione, in altri casi ci saranno anche altri enti di colleghi su temi più specifici, riguarda in generale curare la relazione per curare il cliente, per curare anche gli aspetti qualificanti di un territorio, insomma dare qualità. Sì, sono tornato proprio ieri dalla BIT con un bilancio estremamente positivo. Finalmente abbiamo una strategia regionale che coordina le attività dei vari territori, sfruttando anche le occasioni delle celebrazioni, quindi Leopardi, Raffaello e con piacere ho notato in tutti i vari territori, dal Maceratese, all'Ascolano, al Pesarese, un metodo molto uniforme che è un po' quello che tratteremo in questa giornata. Noi abbiamo strutturato nel mese di febbraio quattro giornate, due riguardano proprio l'accoglienza che è un tema fondamentale per creare un'economia del turismo attrattiva e su questo infatti ci si è soffermata anche la BIT, i vari temi ormai consolidati che sono quelli del racconto del territorio, un modo innovativo di descrivere il proprio patrimonio storico e culturale, ma integrata deve essere comunque l'accoglienza. Su questo tema ci dobbiamo lavorare molto e questa è l'occasione di una partenza che proseguirà, non si fermerà solo in queste quattro giornate e vista anche la notevole partecipazione mi aspetto tanti input che riusciremo così a integrare, a condividere con la nostra strategia globale di fare Urbino una città non solo a potenziale vocazione turistica, ma effettivamente una città turistica.